Giorgio Giannella, presidente dell'Arci Teramo, prosegue la rete dei festival indipendenti Arci con un appuntamento a Colledara. Sì, questo è il penultimo appuntamento della rete provinciale dei festival, un appuntamento a cui teniamo in modo particolare perché si svolge all'interno di uno dei comuni colpiti dal maltempo e dal terremoto di questo inverno. A Colledara, grazie alla collaborazione dell'associazione Riscossa, che è neonata, insomma, appena un anno di vita, però ci sta dando una mano importante per realizzare i festival, i festival saranno tre giorni di musica con gruppi di carattere nazionale. Il primo giorno, il 3 agosto, Cisco de Modena City Ramblers con il suo gruppo I Dinosauri. Il secondo giorno, invece, ci sarà Zulu, De Nontrone Post, con un live set, quindi canterà e metterà dei pezzi con delle basi insieme a un'altra cantante che lo accompagnerà. E poi l'ultimo giorno nada con i Toy Orchestra. L'appuntamento per noi è importante perché, svolgendosi poi nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti e la Laga, abbiamo la collaborazione dell'associazione Gran Sasso Laga Trek, che è una scuola di escursionismo e quindi durante le giornate sarà possibile fare delle escursioni nel parco. E la sera, per chi vorrà, i ragazzi che vorranno rimanere, abbiamo allestito anche un camping libero nel campo sportivo, quindi ci sarà la possibilità di pernottare, insomma, viversi il festival della musica a 360 gradi.